Intensificazione dei controlli dal lunedì 4 maggio per scongiurare assembramenti e per il rispetto delle misure anticontagio da parte delle attività produttive che riapriranno. È quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in videoconferenza dal prefetto di Firenze Laura Lega. Proprio lunedì è stato fissato un incontro per il coordinamento degli interventi, per le attività che non riapriranno e che sono in sofferenza, la prefettura ha già avviato specifici tavoli per il sostegno ai settori interessati come il commercio e la ristorazione. Sulla fronte dei trasporti l'attività di controllo sulla tramvia sarà garantita dalla Polizia Municipale Fiorentina che si avvarrà anche di volontari e nel tratto che interessa il territorio di Scandici, dalla Polizia Locale che presidierà le fermate più sensibili. Il prefetto Lega ha poi disposto l'intensificazione di tutti i controlli sul territorio da parte delle forze di polizia per scongiurare situazioni di assembramento nei luoghi pubblici e nei punti di snodo del trasporto locale.